Ovviamente, ovviamente il primo video dell'anno è una patch note Ma una patch note per un gioco che prima non coprivamo, Wild Rift Wild Rift è arrivato, cominciano effettivamente ad esserci delle patch Non sappiamo con quale tempistica sono, di solito sono ogni 14 giorni per League of Legends Per Wild Rift invece è un grosso punto di domanda Quindi per rimanere sintonizzati iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace Commentate sotto e condividete questo video con i vostri amici Ma per un motivo, perché così potrete sapere quando ci sarà il prossimo aggiornamento Quando ci saranno i prossimi bilanciamenti di gioco E anche perché avrete delle guide dedicate per andare a spiegare come si gioca Wild Rift Cosa devi fare, cosa non devi fare Cosa fanno certi campioni, cosa non fanno certi campioni E qual è il tuo ruolo in tutto questo per andare a vincere, giocare e divertirti su cellulare Che alla fine è un'esperienza totalmente diversa da League of Legends per computer Ma buttiamoci e immergiamoci in queste patch notes Arriva Wild Rift ed è già la patch 2.0 Perché tutto l'anno scorso è stata la patch 1.x Perché essendo il primo anno, quello di test, in quella notte è stata in Brasile Sulle stasiate eccetera 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 Noi partiamo già da Wild Rift che è la patch 2.0 Non è che Wild Rift 2.0, è la patch 2.0 Ogni patch aumenterà di 1 il numero da 2.0 a 2.1, 2.2 eccetera 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 E in teoria l'anno prossimo sarà 3.0 e così via Forse perché le stagioni competitive in Wild Rift potrebbero durare di meno Chissà, andiamo a scoprirle insieme La prima patch del 2021 è arrivata con tante incredibili novità Sì perché decidono Sì no, li rilasceremo i campioni un po' alla volta con calma Tra cui una banda di piccoli nuovi campioni 5 campioni così dal nulla Che ora, se voi scaricate subito l'aggiornamento dopo aver guardato questo video L'aggiornamento è stato scaricato Ma, ma I campioni non sono ancora stati sbloccati Ho già controllato, non ci sono Corky, Kennen, Tristana, Lulu e Timo Per chi arriva da League of Legends tutti sono contenti tranne per Timo E un'altra nota, un altro caveat Il Corky vederlo aggiornato insieme a Kennen è una cosa emozionante Perché su League of Legends sono abbastanza bruttini questi due campioni a livello grafico Voglio vedere come escono su Wild Rift Secondo me sarà una figata pazzesca Non solo arrivano questi cinque campioni Ma arriva il nostro nuovissimo evento chiamato Spedizione Yordle Quindi immagino che ci sia un modo per sbloccare almeno uno degli Yordle E hanno aggiunto anche delle funzionalità nuove per poter giocare a Wild Rift Come il Trova Gruppo Un nuovo indicatore di latenza E una pletora di miglioramenti a gameplay Ragazzi, già soltanto per le cose indicate Mi viene male al cuore a dire Ma porca troia, Wild Rift è privilegiato E League of Legends è tipo In fondo alla catena alimentare È incredibile la differenza tra Wild Rift e League of Legends Wild Rift ha tutte le funzionalità che i giocatori di League of Legends vorrebbero Magari avessi conto queste cose Non solo, non solo Essendo finita la stagione competitiva di Wild Rift La stagione 0 Dalla stagione 1 in poi ci saranno delle skin Le victorious skin vengono chiamate Le skin vittoriose su League of Legends Su Wild Rift invece si chiamano skin gloriose E la prima skin gloriosa Che per ottenerla devi arrivare almeno a gold Si chiama Trindamer Glorioso È una figata pazzesca C'è una skin in esclusiva per Wild Rift Che non c'è sul computer Ed è soltanto se arrivi a gold Parcatraia Maledizione il demonio Assurdo Allora, un recap veloce per tutti Per tutti quelli che non sanno che cosa sono questi campioni Corky è un tiratore Immaginatevelo come una di Kerry Che fa però danno magico Kennen invece è un mago Che fa enormi danni ad area E quindi cerca i team fight Tristana è una triatrice Che fa danno fisico Quindi classico tiratore Che fa un infinity edge Lulu invece è un supporto Estremamente fastidioso E Timo è non ironicamente L'incarnazione del demonio in terra Nel 2020 21 Perché si chiama Oh mio dio Si chiama nel 2021 Andrò ancora abituarmi a sta cosa Se volete rovinare la vita agli esseri umani Giocate Timo su Wild Rift O su League of Legends Vi piace anche League of Legends Una nuova funzionità Il trovagruppo La funzione del trovagruppo Rende più semplice Eccetera Partite con gruppi organizzati E mi sono accorto che Troppe volte mi sono trovato Contro gruppi organizzati Non sono molto contento Io sono sempre stato un solo player Per scalare E vedere che ci sono tanti gruppi organizzati E tipo Eh I proprietari e i gruppi Possono aprire le proprie lobby Agli amici Alla loro lista a tutti Mentre i giocatori possono cercare Lobby aperte in cui entrare Potete filtrare ricerche In base al tipo di lobby La funzione del trovagruppo Vi consiglierà i gruppi adatti In base ai vostri collegamenti sociali E alle vostre preferenze di gioco Ok In pratica ti dà un modo Per trovare gente con cui giocare Carina questa cosa Questo non è male Se non fosse per il fatto Che poi mi ritrovo A dover affrontare Gruppi Quando io gioco da solo Eh Divo Grande roba Se Giocassi con altre persone Indicatore di latenza Allora Allora Questo è un po' strano L'indicatore di latenza Quando voi non giocavate Non mostrava la latenza Che i giocatori Potevano riscontrare in partita Con una precisione sufficiente E quindi È stato rimpiazzato Con un indicatore di rete Che mostra il tipo di rete A cui siete collegati Wi-Fi 4G 5G E' un nuovo indicatorio Che comunica il ping reale Durante il gioco Ok Intrigante Devo vederlo Questo in gioco Per capire la funzionalità Non capisco l'idea Di farmi vedere A cosa sono collegato Dico Ok Allora che serve Però Vedremo Condivisione sui social Ora i giocatori Possono salvare Nella galleria Il proprio dispositivo Condividere direttamente Su facebook Boia Le statistiche Le prestazioni personali A fine partita I campioni più giocati Il livello stagionale Le serie vincenti I nuovi campioni I nuovi aspetti ottenuti Boia Quante altre cose Posso condividere Anche il buco No Quello no E anche le schermate Le classifiche Ora si potete vantarvi Come si vede dopo Un perfetto 15-0 Con Zed Ma Non sono triste Di queste funzionalità social È soltanto molto strano A vedersi Però Ok Più che altro Perché facebook E non tipo twitter O instagram Altre robe No Cioè Facebook è proprio Il boomer social Per eccellenza Ormai Dead social Arriveranno In breve termine Un modo per capire Che facebook È veramente morto Ci sono soltanto I quarantenni Rimasti Maledetti loro Io lo uso solo Per messenger Però vabbè Questo sono io E facebook è orribile Non usate facebook Fottiti Zuckerberg Descrizione della mappa Se volete prendere Familiarità con la struttura Del terreno Ora potete esplorare In dettaglio Con tutta calma La mappa di wildrift Oh questo è carino In pratica Quando voi Premete il tasto play In alto a destra Appare un'iconcina Che vi permette Di vedere la mappa Di wildrift E capire con calma Tutta la mappa E che cosa fanno I singoli buff I potenziamenti Eccetera 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 È molto 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 Bello Lo adoro È un bel modo Per introdurre le persone A funzionalità Che non sono introdotte Nel tutorial E non capisco Perché non si sono introdotti Del tutorial Ora è possibile Attivare Tutorial Di miglioramento Delle prestazioni In base al gameplay Dei giocatori Abbiamo anche implementato Qualche miglioria grafica Il tutorial Era schermato Del primo campione Sbloccato Ok Non male Non male L'emote maestria Del campione Il fatto che non ci fosse Prima era strano Quindi Buono Finalmente I giocatori Possono sbloccare Queste emote Raggiungendo il livello Di maestria 5 Con un campione E poi equipaggiarle Usarle come ogni Altra emote Per comunicare Cioè per sfottere Gli altri Carina Come cosa Questa c'è da sempre Su League of Legends Infatti ero stranito Che ci fosse L'indicatore maestria Su Wild Rift Ma non avevi L'emote E dico Ok Era strano Strano as fuck Aspetti nuovi Che arriveranno In tempi brevi Alcuni sono già attivi E disponibili Altri no Amumu Triste robot Corki Cavalcaurf Corki Arcade Gianna Guardina Stellare Jinx Guardina Stellare Kennen Operazioni Artiche Lulu Minchia Lulu Due skin E anche Corki Nel interesse Kennen Una singola L'Ox Guardina Stellare Timo Coda Batuffoli Mamma mia Vanno proprio Cioè proprio Le due skin Più stronze Coda Batuffoli E Timo Diavoletto Parca puttana Crudeltà Pura crudeltà Ah eccolo perché Super Kennen Lulu crudele Cioè Lulu ha tre skin Lulu ha tre skin Al lancio Perché non le hanno Messe in ordine Di campione What the fuck Ok ok Soltanto per Super Kennen I guess Dico Non mi piace Questo ordine È strano Però vabbè Un sacco Un sacco di skin nuove E viva e viva Rotazione di campioni gratuiti Questi sono i campioni Che potete testare Tranquillamente Gratuitamente Mamma mia Che bellezza 2-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 Cioè capite che metà del roster È disponibile gratis Su League of Legends Tipo puoi scegliere Da 16 campioni No Adesso è 18-20 È una roba ridicola Sta cosa Cioè Su Wild Rift Letteralmente metà del roster È disponibile Da testare gratuitamente Riot Per favore Dateci i campioni gratis Sul League Porca puttana Sistemi di gioco Ora potete far sapere I compagni di squadra Che avete ricevuto Il loro segnale Ah Questo è carino Timer di rigenerazione Dragolo Baroni I tempi di rigenerazione I mostri epici Ora vengono mostrati In statistiche Inoltre abbiamo apportato Qualche miglioramento All'interfaccia della minimappa Meno male Perché la minimappa Ha tanto lavoro Secondo me ancora Ci sono tante cose Che puoi migliorare Su la minimappa Logica della classifica Sì Questo In inglese Era scritto in maniera diversa Ho controllato anche Le patch notes in inglese Per essere sicuro Che non ci fossero differenze Di solito ci sono La logica della classifica Allora Sapete la leaderboard Sapete Quando voi premete il tasto Per vedere Che cosa sta succedendo Cioè L'inventario che avete voi L'inventario che hanno I vostri avversari Ecco Quella è la leaderboard Loro lo chiamano Logica della classifica Hanno chiamato la logica Con cui funziona la leaderboard Le informazioni Sui nemici visualizzate Nella leaderboard Non si aggiornano più In tempo reale Che era una cosa Stronzissima Ma solo dopo che i giocatori Ottengono bisogno degli avversari Finalmente Mi spiego Nel momento In cui tu stai tornando In base Cosa succede? Se tu Se tu e il tuo avversario Tornate in base Contemporaneamente Se tu aspetti un attimo Tu vedi Che cosa l'avversario comprava Compravi un oggetto Che funzionava bene Contro quello Che aveva appena Comprato E ti facilitavi la vita In fase di corsia In pratica In pratica Ti rendeva così facile Negare Counterare È il termine Counterare i tuoi avversari Perché? Perché potevi prendere gli oggetti Che andavano a rendere più difficile La funzionalità dell'oggetto Dell'avversario Meno male che l'hanno cambiato Perché adesso Devi un po' provare a indovinare Penso Ok Penso che andrà per questo oggetto Allora provo a prendere questo Cioè Devi Deve essere un gioco mentale Devi capire Che cosa farà il tuo avversario Non puoi semplicemente Premere un tasto Dici Ah ok Sta costruendo vita E sustain E allora voglio fare qualcosa Che gli neghi sustain Le cure Sono sustain Lo metto come asterisco Perché non si sa mai Giustamente Ci sono un sacco di giocatori nuovi Che non sanno questi termini Quindi Perdonatemi Per i più esperti Se questo sarà Sarà strano per voi Ma dovete anche essere comprensivi Nuova rotta delle moto Ora potete aprire Alla rotta delle moto Tenendo premuto il dito Sul vostro campione Invece di dover usare Il pannello comunicazioni Ah Le cose importanti della vita Giustamente Tirare le moto È fondamentale I messaggi di sistema Non bloccano più La visuale del proprio campione I messaggi di votazione In resa Non passata Non copro visuale Durante il gioco Grazie Oh meno male Quando vedevo La gente che spammava La resa E tipo E dopo arrivava il messaggio I tuoi alleati Hanno deciso di non arrendersi Ma chi se ne cula Voglio giocare Non voglio vedere un messaggio Per 5 secondi Che mi sta coprendo il campione E non riesco a vedere Che cosa devo colpire Statistiche dettagliate Ora giocattari posso vedere Un'analisi dettagliata Delle statistiche principali La riduzione di danni Fornita all'armatura E resistenza magica Conferita agli oggetti Oltre alla conversione Nella velocità di abilità In riduzione alla ricarica Ok Non male Non male Mi piace questo Mi piace molto È abbastanza fondamentale Perché se no è anche Difficile spiegare alle persone Come funzionano le statistiche Su League of Legends Su Wild Rift Perché funzionano Allo stesso modo Ma devi spiegarlo Se no La gente guarda Dice Ok L'armatura funziona bene Contro i danni fisici Ma come funziona Qual è il momento In cui ha senso Continuare a costruire armature E quando smette Di avere senso Di costruire l'armatura Questa cosa voglio spiegarla Però se non posso spiegare Come funziona E non posso farlo vedere Sul gioco È un po' difficile Un pochino difficile Priorità delle torri Ora le torri danno priorità I super minion Rispetto ai minion assedio Meglio sistemare Prima insomma Giustamente Aggiungerei Ha molto molto più senso Vedremo poi L'inizio della stagione 1 L'inizio della stagione 1 Inizia l'8 gennaio 2021 Ci sono ancora Un paio di giorni Se volete salire Almeno a gold Fatelo Che c'è un'iconcina E ci saranno anche Dei tipo Dei bordini E magari vi faccio vedere Poi dopo In un altro video Che cosa otterrete Come premio Per essere arrivati Almeno a gold E sopra Sono cavolate E niente di che Dalla prossima stagione Invece Invece Arriva Una skin Che si chiama Trindamer glorioso Insomma Bello Bello Aspetta Perché raggiunti Allora Abbiamo anche preparato Ma avevano detto Che non c'era una skin Trindamer glorioso È per la stagione Vecchia o quella nuova? Appena lo scopro Vi aggiorno Figo 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 Figo